Ragazzi, ragazzi l'intervallo è finito, vi siete accorti che siete gli ultimi? Dai, dai che riprende la lezione, avanti. Allora, mettetevi a sedere. Allora, vi ricordate i disegni che abbiamo cominciato due giorni fa? Silenzio, voi due. Oggi li finiremo. Il tema era il mondo dei sogni. Quindi, chiudiamo gli occhi. Bravi. Potete sognare quello che volete. Nel paese dei vostri sogni possono addirittura esserci aerei che come sci e hanno arcobaleni. Allora, adesso con calma mettete via i pastelli, lo facciamo un'altra volta è il disegno, e mettiamoci su qui. A terra. È un gioco e durerà pochissimo. Potete anche mettere le mani sopra la testa. Le mani sopra la testa e chiudete gli occhi. Tranquilli, andrà tutto benissimo. Parti non sopra. In potere! Noti! La nostra testa diciamo non sopra la testa e lo facciamo un'altra cosa. Chiudo! An nobretta sta orando a riadibilità. An al!」 Guernaghi. « Sidi того! Grazie a tutti.